FALENAMERIA PALUDETTO Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua TG Plus News edizione di Venezia, buonasera In apertura del nostro notiziario La Cronaca I carabinieri di Verona, verso le ore 13 di oggi, giovedì 14 settembre, hanno rintracciato e fermato nel centro di Favar Veneto L'uomo ritentò responsabile della morte di Massimiliano Bincoletto, aggredito il 25 agosto scorso a Verona e morto l'8 settembre all'ospedale di Borgo Trento, dove era stato ricoverato L'uomo arrestato è un uomo giorgiano senza fissa dimora, con precedenti penali, che è stato ricercato dagli investigatori fino alla giornata odierna Il presunto responsabile è stato posto in stato di fermo per omicidio preterintenzionale messo dal Pubblico Ministero Zanotti e sarà portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida Ancora Cronaca Polla questa mattina al municipio di Mestre per dare l'ultimo saluto a Giuseppe Escaboro, morto domenica scorsa a 81 anni, di età Escaboro, entrato giovanissimo come operaio all'IVA di Porto Marghera, ha partecipato attivamente alle lotte sindacali degli anni 60 operando all'interno sia della FIOM che della FILCEA e dello stesso PC La sua attività si è poi spostata gradatamente sempre più in ambito politico all'interno della segreteria regionale del Partito Comunista per poi passare, una volta sciolto quest'ultimo, all'interno del PDS È stato poi consigliere comunale e assessore nella provincia di Venezia Terminati i suoi incarichi di amministratore, Escaboro ha ricoperto vari ruoli all'interno della CIA, agricoltori italiani e in alcune associazioni cittadine Cambiamo argomento È in corso a Venezia l'installazione di nuovi adesivi sui cerestini porta rifiuti da passeggio Si tratta di un'iniziativa congiunta tra Veritas e il Comune Gli adesivi riportano alcune utili indicazioni, in italiano e in inglese, relative ai gabbiani Suggeriscono infatti a cittadini e turisti di non avvicinarsi a questi animali e di non dar loro da mangiare Il cibo infatti attrae i gabbiani come dimostrano i furti quotidiani direttamente dalle mani delle persone Gli adesivi saranno collocati sui cestini che si trovano nei luoghi di maggior transito e dove è stata riscontrata la più alta presenza di gabbiani Ci spostiamo a Jesolo dove da qualche giorno è attivo un nuovo servizio di noleggio in condivisione di monopattini elettrici e biciclette Il servizio sarà disponibile per tutto il mese di settembre 2023 e per l'intera stagione estiva 2024 e viene svolto dall'azienda DOT Per poter noleggiare i veicoli in sharing è necessario scaricare l'app DOT dagli store sul proprio smartphone e registrare un profilo utente personale Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni L'utilizzo del servizio è subordinato all'accettazione di termini e condizioni Inoltre prima che un utente si metta alla guida l'app DOT ricorda di usare le piste ciclapili di non salire sui marciapiedi e di parcheggiare correttamente avendo così ben chiare tutte le regole generali e locali che deve rispettare Si chiude qui il nostro notiziario Grazie per averci seguito Arrivederci